Non è che sia carina la cosa, perché comunque ci sono dei bambini e quindi sarebbe il caso di stare un po' più attenti a ognuno di noi e ai propri figli per non portare determinate malattie. C'è preoccupazione tra i genitori del quinto circolo didattico di Giuliano per il caso di scabbia scoppiato qualche giorno fa. Le mamme e i papà per adesso sono tranquilli, dato che hanno ricevuto rassicurazioni dai pediatri e anche dall'ASL, ma resta un po' di apprezzione. A paura per i suoi figli? No, perché mi sono informata tramite il mio pediatra e mi ha detto che è molto tranquilla la cosa, quindi bisogna stare a stretto contatto con il bambino, starci più ore, quindi non ho avuto alcun timore di questa cosa. Io mi aspettavo che arrivasse l'ASL e tranquillizzasse un po' tutte le mamme, questa cosa tuttora ancora non è successa, quindi spero che nei prossimi giorni questa cosa accada. Ha paura? No, perché abbiamo parlato con la pediatra e ha detto che non ci sono problemi, ci ha preparato una lista in caso per prevenire, purtroppo scabbia, vidocci, c'è un po' di tutto. Purtroppo uno se vede una cosa del genere non le dovrebbe nemmeno portare i bambini a scuola. Insomma tutto sarebbe sotto controllo e non ci sono rischi per la salute dei bambini. No, non ho paura perché la scabbia è una malattia che si può contagiare con la lenzuola e non con un bimbo o un altro bimbo. Non è strano che un bambino di tre anni possa avere questo problema? No, non è strano perché comunque nel 2015 le malattie sono molto, ma molto avvantaggiate rispetto agli anni addietro. Io so che non si mischia facilmente, solo per contatto, quindi non ho paura, ho sentito dire qualcosa, però mi sono documentata e quindi... Lei e i suoi figli li continuano a portare a scuola? Non li ho portati il giorno dopo, come ho saputo il giorno dopo l'ho portato con la speranza insomma che ci successe qualcosa. Poi mi è stato riferito comunque da un'infermiera che in effetti non c'era motivo di preoccuparsi in quanto il bambino era stato ritirato almeno due settimane prima, quindi il contagio non ci poteva essere. Penso che sia una stata colpa degli animali, non lo so.